Una doverosa e brevissima premessa. Io penso che Silvio Berlusconi sia stato per questo paese un problema, sia stato motivo di immobilismo per i vent'anni che abbiamo appena passato, sia stato veramente un grosso problema anche dal punto di vista di quello che ci ha messo nella testa, di quello che ci ha fatto credere che saremmo potuti essere. Secondo me è stata un'immagine negativa e politicamente nulla perché appunto ha portato questo paese all'immobilismo e al nichilismo. Ma bisogna anche essere razionali e cercare di pensare in maniera critica. Sapete che in questi giorni è stato assolto per tutto quello che riguarda il discorso rubi eccetera. Bene, un uomo è stato devastato, demolito nelle sue cose più importanti, nella sua famiglia, nella sua dignità, nel suo onore per anni in tutto il mondo. È stato sputtanato con tutti i mezzi possibili, in un percorso lunghissimo di tempo, durante il quale ha perso tutto quello che aveva di più importante. Non i soldi, perché lo sappiamo che non gli ha persi, ma sicuramente la sua dignità e il suo onore gli ha persi e non li recupererà mai più. Per poi, alla fine, sentirsi dire, dire, o meglio, per poi noi tutti sentirci dire, che è innocente dalla Cassazione. Allora, siccome io voglio credere alle sentenze, perché sennò crolla il castello di carte, cioè non possiamo dire, mettere sempre in dubbio tutto, possiamo anche pensare che non sia innocente, ma di fatto il fatto è che lo è. Chi è che gli ridà quello che ha perso? Chi è che gli ridà questi anni in cui è stato completamente devastato e distrutto? Nessuno. E chi è che paga per questo errore giudiziario, perché di questo si tratta da un certo punto di vista, lui. Cioè l'unica persona decretata dalla legge innocente è quello, è l'unico che ha pagato, insieme a tutti quelli che lo circondano. Allora, quando dice che i magistrati sono una forza trasversale, eccetera, allora mi viene da dire che ha ragione. Allora mi viene da dire che anche se lo si può essere odiato, da questo punto di vista ha ragione. È una cosa che fa molto riflettere. Chi è che gli ridà quello che gli è stato preso? Nessuno. L'innocente è anche quello che paga. Benvenuti in Italia.